Ragazzi fragili che dopo i 18 anni diventano fantasmi per il nostro sistema sanitario. Il destino dei giovani autistici, sempre più ridotti ai margini, invalia di un sistema che li rigetta e fa di tutto per non integrarli. Ci siamo immersi nel loro mondo grazie alla collaborazione dell'associazione irpina Pianita Autismo, che dagli anni 2000 si batte per la realizzazione di un centro che offre a questi ragazzi assistenza specializzata. L'associazione è nata nel 2001 per volontà di genitori di persone affette da autismo. Ad Avellino, ma non solo ad Avellino, in tutta l'Irpinia, non esiste un solo centro di riabilitazione che accetti persone con autismo. La loro vita non può essere semplicemente alzati, lavati, vestiti, mangia e dormi. Non è vita questa per un giovane. È tutto un lavoro un po' più lento e particolare, nel senso che c'è prima un'osservazione iniziale, dove bisogna capire il ragazzo come si relaziona all'ambiente circostante. E poi piano piano si entra nelle sue grazie, tra virgolette, nel suo mondo, tramite le cose che più gli piacciono fare. Tramite la musica vengono stimolati alcuni sensi che, in genere, quando c'è movimento, quando ci sono altri rumori di sottofondo, vengono assopiti. Forse dall'esterno è difficile capirlo, però stando all'interno del laboratorio succedono delle cose che realmente ti fanno riflettere, ti fanno capire che la comunicazione non è sempre una cosa semplice. Bisogna comunque trovare una chiave di lettura e soprattutto essere empatici per capire che realmente succede qualcosa. Sono venuti a fare pure un po' di passerella pre-elettorale. Adesso che hanno ricevuto le chiavi del cantiere, non si fanno più né vedere né sentire, e noi le cose ultimamente le leggiamo sui giornali. Grazie a tutti.